Chi è Rita De Crescenzo? Prime problemi con la droga poi il successo di TikTok. Rita De Crescenzo ha 44 anni e di professione da circa due anni fa la TikToker. Con il suo modo di fare partenopeo, i balli e le canzoni è riuscita a conquistare il web diventando una vera e propria icona, tanto è che adesso è molto richiesta nelle feste private. Nella sua storia professionale compaiono anche video musicali per le sue canzoni, uno su tutti Matte e Bulisse fa una gara e ballo con ben oltre 4,6 milioni di visualizzazioni su YouTube. A maggio scorso De Crescenzo, reduce da questo successo nazionale, ha deciso di aprire un negozio con gadget da lei brandizzati, stiamo cominciando ad allestire. Proprio in merito al negozio aveva poi aggiunto mi sono comprata il marchio, ho fatto tutto con il commercialista. Anzi, come vi ho già detto, mi servirebbe una ragazza. Se qualcuno vuole venire a lavorare con me, la metterò a posto. Non terrò nessuno in nero. Cosa venderemo? Borse, asciugamani, teli, magliette, ci saranno le cose per la scuola, per il Natale. Sarà tutto svergognat, la sua firma sui social. Sempre sul social De Crescenzo ha raccontato il suo passato e in particolare l'arresto, che risale al 2017, con conseguente detenzione in carcere, sono stata arrestata con l'accusa di spaccio di droga, ma ne sono uscita assolta. Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo, e chiedevo loro di restituirmi i vestiti. Non posso far nomi, sono state arrestate in tutto 60 persone. Quelle realmente colpevoli sono tuttora in carcere. Sono stata arrestata solo per intercezione, ovvero intercettazione, telefonica, ha aggiunto in un secondo momento, in più ai veri colpevoli sono stati portati via i figli, invece mio figlio è a casa con me. Non mi sono saputa esprimere bene. La gente del mio quartiere lo sa, ma nessuno mi ha difeso. Nessuno ha detto che io non ho mai spacciato, che in quella situazione non c'entravo. Rita è sposata con Salvatore Bianco, e i due hanno un figlio rosario. Particolarmente nota è la furiosa lite che la donna ha avuto con il marito dopo che si è sentita male per strada. Decrescenzo ha rimproverato sia dal vivo che sui social il marito non essersi preso cura di lei nel modo più corretto. A distanza di pochi giorni però tra i due è tornato il sereno come ha prontamente spiegato su TikTok Rita. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video. Grazie